Come ha trovato Napoli? Io la prima volta che vengo, bellissima. Bella, bellissima, è sempre molto bella. È un momento magico per il turismo a Napoli. Camere degli alberghi piene, musei e luoghi d'arte presi da assalto da migliaia di turisti che hanno approfittato delle festività per far visita alle meraviglie della città. Turisti spagnoli, francesi e inglesi che hanno trovato una città con un trasporto pubblico ridotto a minimi termini ma che a quanto pare non li ha spaventati, come spiega Enzo Sasso, responsabile dell'Infopoint dell'azienda Turismo di Napoli. Il turista ha un approccio diverso rispetto al napoletano al servizio dei trasporti. Per loro è già importante stare in città e riuscire a muoversi. Accettano di buon grado anche qualche sacrificio sulla lentezza della mobilità cittadina. Napoli è una città che già di suo attrae i flussi turistici. Dobbiamo anche ringraziare un buon marketing che è stato fatto sulla nostra città dalle varie trasmissioni televisive degli ultimi anni e anche, devo dire, dall'intraprendenza, dall'attivismo di alcuni imprenditori privati del settore.